Lei è Giada? Detta anche per gli amici Belen perché è fascinosa e sa di esserlo. Gaia, Sciro, Leo, Razio, Linda, Rossella sono loro i protagonisti del nuovo progetto del canile Melampo. Dopo la perdita della presidente Simona Maruccini, le 15 persone che lavorano nella struttura di Tre Ponti a Fano non si sono mai fermate ed anzi hanno deciso di organizzare un'adozione a distanza per i 97 amici a quattro zampe, età media 11 anni e c'è chi da troppo tempo attende una famiglia che possa prendersi cura di lui. Intanto riceve l'amore di tutti i volontari degli operatori e di Cecilia Tornimbeni che da vice è diventata la nuova presidente dell'associazione e un primo pensiero questa mattina non poteva non andare a Simona, alla quale è dedicato questo cuore russo con la scritta Hope, la speranza che lei ha saputo donare a tanti. È un momento particolare sia da un punto di vista emotivo perché comunque è una perdita che ha colpito tutte noi ma anche da un punto di vista gestionale perché ci troviamo a mandare avanti una struttura senza quella che è la sua colonna portante e quindi è un progetto che è ambizioso anche perché si inserisce in questo momento particolare e confidiamo di riuscire a portarlo avanti nel migliore dei modi. In poche settimane sono già 55 i cani adottati a distanza. Sulla pagina Facebook dell'associazione sono state pubblicate tutte le foto degli animali con una breve descrizione. Chi è interessato al progetto può decidere di contribuire per un minimo di tre mesi con una quota di 15 euro al mese, una quota simbolica chiaramente perché il grosso del mantenimento è garantito comunque dalla convenzione con il comune di Fano. Non è solo a beneficio dei cani ma ci piacerebbe che potesse essere un momento di apertura anche alla cittadinanza per spiegare che cos'è il canile, qual è la vita di un cane di canile per consentire a chi volesse di toccare con mano quella che è la nostra realtà. Il canile darà anche la possibilità alle persone di incontrare una volta al mese il cane adottato con il supporto di un istruttore cinofilo. Stiamo cercando privatamente di dirottare un pochino e di pilotare le adozioni, cercando di far adottare a distanza cani più problematici. Ci sono comunque in canile cani che hanno problemi di aggressività, che hanno problemi magari di timidezza, ci sono cani più fobici che magari non riescono ad avere un rapporto fisico proprio con questi adottanti. Stiamo cercando di farli adottare dalle persone che ci tengono a partecipare a questo progetto ma che sono molto lontane e invece cercare di dirottare le adozioni di cani più socievoli a persone che abitano qui e abitano in città perché così possono costruire un rapporto fisico con i cani.